Archiviato con un discreto successo ma sicuramente nettamente inferiore a quello dello scorso anno vista anche la crisi del mercatino di quello che riguarda la fiera di San Nicolò e nel viale 20 settembre è stato inaugurato il secondo appuntamento con i mercatini nella cornice di piazza Sant'Antonio ovvero il mercatino di Natale 2013 che oltre le stesse piazze interessa anche le vie Ponchielli, Paganini e Santa Caterina la manifestazione è giunta alla seconda edizione diciamo in maniera restaurata ed è organizzata dall'amministrazione comunale assieme alle associazioni di categoria operativamente la gestione dell'evento è stata affidata alle carte terziarie del centro assistenza tecnica alle imprese a confcommercio giuliana il mercatino di Natale mira a creare un'occasione di visibilità e di incremento delle attività benefico alle imprese ricordiamo che il mercatino di Natale sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20 ed accessizione del venerdì e sabato che la chiusura si porterà alle 21 e nel 24 con uno stop all'attività che ci sarà alle ore 18 grazie a tutti